Allora, grazie, grazie a tutti perché avete partecipato, perché avete dimostrato veramente il vostro sostegno, il vostro credere nel progetto e nella squadra formata, grazie principalmente a Filippo che ci ha cercati uno per uno, ci ha trovati e ci ha fatto lavorare insieme, ci ha insegnato a lavorare insieme. Grazie a tutti, molto grazie a voi, in bocca al lupo, ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao a tutti.